Ben ritrovati in primo piano oggi i risultati dell'inchiesta sull'ecosistema urbano in Campania. Le città delle zone interne Avellino e Benevento arretrano ma restano come performance le migliori a livello regionale. Ne parliamo con Oreste Lastella che è il Presidente della Camera di Commercio di Avellino. Ben ritrovato, grazie per la sua disponibilità. Sul risultato incidono soprattutto le voci su traffico e rifiuti che naturalmente condizionano la vivibilità. Perché a suo giudizio la situazione sta peggiorando anche in centri più piccoli come Avellino e Benevento? Paghiamo lo scotto di errori madornali commessi nel passato e questo è estremamente grave. Da un lato fa rabbia, però dall'altro lato bisogna effettivamente cercare di fare una volta per tutte un'inversione di tendenza come logica da utilizzare nella gestione amministrativa della città. Quando dico errori madornali parliamo per quanto riguarda i parcheggi. La follia di non aver voluto prevedere parcheggi al centro nelle immediate vicinanze dell'area pedonale di Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà e la logica di tutte le città a livello mondiale ad Avellino si decise praticamente che non andavano fatti questi parcheggi. Quindi mi sembra veramente quello un errore come dicevo madornale ma forse addirittura peggio perché poi si va a minare l'evoluzione civile di una città quando si commettono errori di questo tipo così gravi. Altro errore, lì purtroppo paghiamo un dazio, uno scotto terrificante è la politica che è stata fatta ultimamente negli ultimi anni per quanto riguarda il trasporto pubblico locale indirettamente legata ai parcheggi però perché quello riguarda i veicoli privati ma in effetti noi da sempre storicamente ci lodiamo di essere la provincia della Verde Irpinia ebbene in un contesto del genere noi dovevamo essere una sorta di esperimento pilota a livello nazionale per una evoluzione ecosostenibile del trasporto pubblico locale invece praticamente ci diamo la zappa sui piedi con tutte quelle che sono le emissioni che provengono dai bus che vanno a gasolio quando in effetti poteva essere anche fatta in via sperimentale lanciata una ipotesi di trasporto pubblico locale a metano o addirittura in forma elettrica ma non quello che purtroppo si sta ancora ipotizzando, progettando ci si sta lavorando che è la metropolitana leggere che da un punto di vista tecnologico è obsoleta perché parliamo di vecchie ipotesi, un progetto vecchio ma soprattutto logiche obsolete per quanto riguarda il trasporto pubblico locale ma guardando alla prospettiva secondo lei che cosa dovrebbe cambiare sul piano della programmazione e proprio delle scelte degli amministratori locali? ma io vedo che c'è una freschezza nell'approccio rispetto ai problemi questo è già tanto, una visione non di parte ma una visione che è quella di affrontiamo le questioni veramente ascoltando tutti e questo è già un primo passo che spesso purtroppo in passato è mancato non perché chi parla, chi propone poi ha sempre la soluzione di ogni problema però chi deve decidere deve ascoltare tutti poi la bravura sta nell'individuare quelle che sono le soluzioni migliori e che vanno chiaramente a tutela di tutta la cittadinanza di tutta la popolazione ecco l'amministrazione comunale deve essere non brava ma bravissima in questo e purtroppo in passato ma non mi riferisco all'ultima io parlo proprio di un lasso di tempo almeno ventennale che tutto questo praticamente non è avvenuto faccio un esempio senza polemiche lo dico quasi scherzosamente una ventina di anni fa proposi al sindaco dell'epoca Pino Galasso non una soluzione, era un'ipotesi visto che avevamo fatto degli studi sul traffico ad Avellino dove sostanzialmente tranne dei momenti di criticità molto brevi per giunta orario delle scuole e qualche semaforo sostanzialmente il volume di traffico sulle strade cittadine è molto basso Avellino è una piccola realtà e mi proposi insomma al sindaco dell'epoca di diversificare sfalsare un po' l'orario di apertura e chiusura delle scuole ma anche di 10 minuti, un quarto d'ora perché in quel modo non si accavallavano tutti gli alunni e quindi poi i genitori che li accompagnavano a scuola fui preso per pazzo letteralmente cioè fu presa quasi come una sorta di follia quando in effetti era una banale ipotesi per una soluzione del problema allora ecco anche da questo punto di vista bisogna sempre rimanere con i piedi per terra essere sempre quanto più razionali possibili e cercare di tutelare al massimo i cittadini Ecco invece passiamo ad un'altra questione dallo spopolamento alla disoccupazione dal suo osservatorio come valuta lo stato dell'economia delle zone interne insomma? Molto pesante soprattutto perché noi paghiamo Dazio per una serie di circostanze praticamente è finita l'epoca dello sviluppo delle aree industriali che è stata tutta la fase del post terremoto che ha portato a benessere però purtroppo la provincia l'Irpinia non è stata in grado di riciclare nel senso corretto del termine nel senso buono del termine quelle che erano le aziende surte alla fine degli anni 80 nello stesso tempo poi i comuni soprattutto dell'Altirpinia è banale dirlo però realmente si stanno spopolando ma non da ora già da diversi anni e questo significa e questa è la cosa veramente grave che praticamente i giovani non credono più nella nostra provincia noi abbiamo delle carte ancora da poterci giocare e soprattutto per quanto riguarda alcuni settori legati all'agricoltura automaticamente quindi al terziario ma soprattutto alla trasformazione dei prodotti agricoli irpini dico questo perché è chiaramente tutto questo abbinato al turismo soprattutto enogastronomico ma anche proprio turismo a 360 gradi ecco queste sono le direttrici rispetto alle quali noi potremmo effettivamente cercare di calamitare nuovamente l'interesse dei giovani in Irpinia e ad esempio l'amministrazione provinciale il presidente Biancardi in accordo pienamente con la Camera di Commercio sta lanciando la fondazione per la promozione del territorio e questo potrebbe essere effettivamente un volano per far sì che effettivamente in Irpinia ci siano dei motivi di interesse maggiori per quanto riguarda i giovani che significa chiaramente anche cercare di calamitare investimenti europei e nazionali probabilmente la regione non ha prestato la giusta attenzione alle aree interne è chiaro che era fin troppo facile dare ossigeno ancora di più a tutta la fascia costiera a una metropoli come Napoli e così via a realtà come quella casertana però probabilmente lì è stato fatto un errore strategico notevole a quello di trascurare fortemente le aree interne quindi Avellino e Benevento però questo significa che ancora di più noi dobbiamo dimostrare di essere irpini veri quelli che praticamente a un certo punto stringono i denti si rimboccano le maniche e fanno anche da soli Senta, oggi nelle zone interne si discute anche dell'allarme criminalità insomma la camorra ha messo le mani anche in territori che venivano considerati in passato isole felici come stanno condizionando le infiltrazioni della malavita organizzata le imprese locali insomma cosa sta accadendo Allora qui bisogna fare una premessa la premessa è che non è la solita banalità che crediamo nelle forze dell'ordine e nella magistratura no io lo dico veramente in maniera convinta cioè la dimostrazione di ciò che sta accadendo è che effettivamente la magistratura e le forze dell'ordine effettivamente non solo cercano di arginare il fenomeno in Erpigna ma soprattutto l'obiettivo effettivamente è quello di debellarlo diciamo che potrebbe essere sembrato un fulmine al ciel sereno quello che è accaduto per quanto riguarda i fenomeni malavitosi degli ultimi giorni però sostanzialmente tutti sapevamo che c'era qualcosa che non quadrava a naso si capiva che purtroppo una degenerazione del fenomeno in Erpigna c'è stata la cosa fondamentale è che chiaramente questi fenomeni non comportino una ulteriore degenerazione all'interno delle amministrazioni comunali di qualsiasi tipo nella pubblica amministrazione in genere perché quello poi significa effettivamente che lo Stato ha perso e purtroppo la malavita si sta giovando di questa situazione ecco è lì è fondamentale in questo caso che tutti gli Erpini siano al fianco della magistratura e delle forze dell'ordine per far sì che venga fuori una dimostrazione di compattezza per dire noi non siamo camorristi e noi vogliamo assolutamente che fenomeni di questo tipo vengano totalmente debellati perché non appartengono alla nostra civiltà alla nostra cultura, alla nostra tradizione e lì dobbiamo dimostrare veramente di tirare fuori gli attributi dai Erpini per quanto riguarda il mondo delle imprese è fondamentale chiaramente che chi purtroppo rischia di subire fenomeni di questo tipo cambia anche lì mentalità nel senso che forse segnalare alle associazioni o a enti predisposti o direttamente alle forze dell'ordine effettivamente che qualche problema si sta vivendo potrebbe non solo agevolare l'attività del singolo imprenditore ma chiaramente rendere un servigio a tutto il settore dell'impresa ecco tornando alle questioni dello sviluppo e dell'occupazione oggi si parla molto di green economy le città del sud sono in ritardo rispetto a questo argomento ma può essere una prospettiva secondo lei assolutamente sì il sud è in ritardo ancora più grave è che lo sia una provincia green per antonomasia proprio per vocazione come l'Irpinia quindi anche in questo caso purtroppo però è mancata una regia politica una regia amministrativa rispetto praticamente a politiche che potessero semplificare la strada ma anche permettere l'individuazione poi di fondi che potessero non dare una mano all'imprenditura ma far sì che tutto il sistema Irpino si potesse sviluppare in quella direzione molte cose sono state fatte nell'ambito dell'enogastronomia legate proprio a un turismo ecosostenibile però c'è ancora tanto da fare il turismo probabilmente nei prossimi anni detto così può sembrare quasi una bestemmia ma in effetti se noi riuscissimo a razionalizzare quelle cose belle e buone che abbiamo come turismo e non solo enogastronomico nella nostra Irpinia e saperle vendere all'esterno nella maniera diciamo con delle tecniche di marketing molto evolute non obsolete strampalate questo è mancato negli anni purtroppo questo è mancato completamente tutto è stato diciamo lasciato nelle mani dei singoli imprenditori noi abbiamo TridoCg, Trevini Taurasi, Greco e Fiano è una delle poche province in Italia a livello nazionale l'Irpinia che ha avuto il riconoscimento di TridoCg questi per noi rappresentano un biglietto da visita fenomenale soprattutto in un ambito turistico se riusciamo a cavalcare correttamente nel senso buono un fenomeno di questo tipo ecco l'ultima cosa alla stella per chiudere questa nostra intervista da Gianluca Festa a Clemente Mastella secondo lei qual è la sfida dei sindaci delle zone interne che come possono contribuire alla crescita economica di questi territori? una visione totalmente diversa di come gestire la pubblica amministrazione non è rivolta a loro io dico l'esempio tipico purtroppo del vecchio sistema era quello clientelario oppure praticamente di rendere favori alla gente no questo non esiste è folle è incostituzionale non deve più proprio far parte del nostro bagaglio culturale è immorale esatto il sindaco deve praticamente tenerci allo sviluppo della propria realtà fare in modo che tutta la realtà cresca che si tengano presenti gli interessi di tutti e soprattutto che effettivamente non solo si rispettino le regole ma venga dato un impulso al senso di civiltà che tutti debbono avere bene speriamo che sia davvero così grazie intanto ad Orreste La Stella presidente della Camera di Commercio di Avellino che è stato nostro ospite grazie regia per noi Aldo Fenizia buon proseguimento con Otto Channel grazie a quanti ci hanno seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti